Allora, vediamo ora come spostare gli oggetti. Basta selezionarne uno, tenere premuto il tasto sinistro del mouse e cominciare a muoverli. Se vado a sinistra, vedete, i numeri sono negativi, se vado a destra i numeri, le coordinate sono positive, come le coordinate cartesiane, se vado in alto sono negative, se vado in basso sono positive, quindi questo è molto semplice. Torniamo alla posizione iniziale, però la cosa che potete fare è cambiare la posizione anche scrivendo dei numeri. Ad esempio, se invece di scrivere 50, volevo farne 30, la posizione reale è questa, se invece di 2 e questo voglio lasciarla a 0, lo lascio a 0. Altra cosa che può succedere, può essere scomoda, quando io muovo un oggetto, è difficile muoverlo solo in una direzione, vedete che vado anche sempre un po' più avanti o indietro. La cosa da fare, in questo caso qua, se volete muoverlo in una sola direzione, è tenere premuto il tasto maiuscolo. Voi tenete maiuscolo e vedete che appare solo una coordinata, in questo caso ho bloccato solo l'asse delle X, quello a destra e sinistra, mentre in questo caso qua, quello delle Y, e così via. Non è possibile però alzare, cambiare la quota dell'oggetto tenendo premuto con il mouse sull'oggetto stesso. Ecco che qua viene utile l'ultima freccetta che ci mancava, quella superiore, adesso giro un attimo il piano di lavoro in modo che si veda, si prende e si tiene premuto semplicemente la freccetta e si alza o si abbassa il nostro oggetto. Da qua in poi possiamo anche regolarci, se voglio lasciare di 5 mm, scrivo 5, se voglio tornare a 0, lascio a 0. Quindi dal punto di vista del nostro oggetto, anzi torniamo qua con la visione originale, questo è come si muove, non ci sono tante problematiche. Passiamo ora invece a vedere qualche altro oggetto, magari più complesso, ad esempio il cilindro. Metto qua dentro, mi avvicino al cilindro, eccolo qui, e vedo alcune cose che in informatico, solitamente nei CAD, i cerchi non sono mai dei cerchi perfetti, sono in realtà dei poligoni, e più ci sono lati in questi poligoni, più il cerchio sembra vero. Facciamo un esempio, andiamo a vedere la finestra di dialogo della stessa forma, quella del cilindro. Tiriamo giù la freccetta e vediamo, qua infatti ci sono i lati, i lati in questo caso sono 20, è in poligono 20 lati, se torniamo al minimo questo è 12, un dodecagono, come vedete non simula molto bene il cerchio. Se noi lo mettiamo a manetta, a 64, la cosa è già più realistica. Io di solito faccio attorno ai 30, 40, sembra un attimino più fighetto così. Dopodiché abbiamo un'altra particolarità, abbiamo il bevel, che può essere fatto anche tranquillamente, come raccordo significa, anche sulle altre figure tipo il cubo. Se io faccio il bevel, lo vedete a un momento, vedete che faccio una smussatura, in questo caso qua il massimo è 2,5 mm di altezza, qua ad esempio lo faccio attorno ai 2 mm, e dopo qua ho la possibilità di regolare questo bevel con i segmenti, i segmenti cosa sono? Sono i lati diagonali, in questo caso ce n'è uno, da questo punto questo, da questo questo, è solo un lato. Se io lo aumento, anche solo due, vedete ecco c'è uno e due, comincia la smussatura essere un po' più tondeggiante. Se io comincio a aumentarlo, vedete che la cosa diventa più carina. Perché non metto sempre a manetta tutti questi parametri? Perché intanto dal punto di vista del calcolo del computer, il computer fa più fatica, soprattutto quando ci sono degli oggetti multipli e complessi, e dopodiché anche dovete pensare che questo nasce per essere stampato in una stampante 3D, che comunque ha un suo limite, e quindi di solito si va attorno ai 5. Questo perché riguarda il nostro nuovo oggetto, che può essere cambiato, come tutto, come tutti gli altri. Ecco, li vediamo qui. Quando vi ho portato? Dopo ci sono altri vari oggetti, sempre tondi, come la sfera, la stessa cosa può essere vista da lì. La sfera più ha passaggi, più è simile a una vera e propria sfera rotonda. Adesso, visto che sono multipli qua, vi faccio vedere una cosa interessante, che è il tipo di visualizzazione. Questi tre oggetti qua possono essere visualizzati qua sopra, e modificati solo con questa visione di progetto 3D Tinkercad. Dopodiché c'è la possibilità però di questi due pulsantini. Il primo, che vi faccio vedere, è quello mattoni, che trasforma il nostro oggettino in mattoni Lego, di cui poi possiamo dare le definizioni da qua a qua. Possiamo cambiarlo, ci metto un po' a calcolarlo, così via. C'è la possibilità di vederlo attraverso i layer, cioè i vari livelli, i piani sarebbero, due, tre, quattro, fino ad arrivare a manetta, qua sono sei, per cui più di tanto non si fa. E questo dopo è simpatico, può essere anche esportato con i condividi come immagine, può anche essere scaricata come immagine PNG. Altra visualizzazione simpatica, per i giocatori forse è meglio questa, questa è quella di Minecraft. Questo è Minecraft, per cui vedete che anche qui potete dare la definizione, adesso questi sono oggetti semplici, ma potete immaginarvi che questi oggetti siano più complessi, devi farvi un robottino fatto con questo software qua, e poi farlo vedere con questa visualizzazione di Minecraft, dove potete cambiare anche il tipo di materiale, ad esempio materiale zucche, possiamo ammetterlo che sia un bricks, e così via. Quando avete fatto il vostro oggettino, la cosa bella qua, oltre a condividerlo e salvare l'immaginina, che è carina, ma più di tanto non ci fate, è quello di poter esportare questo progetto qua come punto schematic. Il punto schematic va assolutamente, poi quando l'avete salvato può essere caricato in Minecraft direttamente, quindi potete farvi un oggetto complesso in Finkercad, e poi portarlo nel vostro Minecraft. Mi sembra una cosa abbastanza simpatica. da questo punto di vista, quindi questo è un software che permette poi di passare ad altri software, e vedremo anche nel momento che dobbiamo passare poi a una stampante 3D.